Seconda prova della categoria premio e secondo concorrente arriva dalla Russia per eseguire di attestaron del maestro Angelo Bianca Mano sul palco di PIF 2017. Seconda prova della musica e seconda finalista viene dalla Russia per performare l'attestaron del maestro Angelo Bianca Mano sul palco di PIF 2017. Let's welcome on stage Artur Arshin. A big up walk, thank you. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.